Eh sì, la bacchetta magica è tutta un'altra nido! Ma certo, siamo in un asilo nido a 5 stelle! Oh, le maestre sono adorabili! E il papà è buone, come quello della mamma! Per non parlare dei giochi sensoriali, per imparare tante cose nuove! Oh, da grande voglio fare l'astronauta! Io invece voglio fare come la maestra Roberta! E' arrivata la tua mamma! Uffa, è sempre in anticipo quello!